Si respira già aria di piena campagna elettorale dopo la presentazione dei simboli per le regionali del 25 settembre. Complessivamente 38 quelli depositati, ma mercoledì si conoscerà con certezza il numero di quelli ammessi. Il momento clou sarà comunque quello che maturerà nei prossimi giorni. Entro martedì 23 agosto, infatti, si dovranno presentare i nominativi di tutti i candidati e non ci sarà più spazio per la girandola di nomi degli ultimi giorni. Capitolo Presidente. Renato Schifani, candidato del centro-destra, sarà sostenuto da Forza Italia, Lega Prima l'Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Autonomisti e Popolari e Nuova DC. Depositato anche il contrassegno di una lista del Presidente. Quattro liste per Caterina Chinnici, che ha vinto le primarie del campo progressista, PD con il nome della candidata, Movimento 5 Stelle, Cento Passi e una lista del Presidente. Tre per Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, De Luca sindaco di Sicilia, Sicilia Vera e Orgoglio Siculo. Azione Italia Viva a sostegno della candidatura di Gaetano Armao nell'ambito del cosiddetto Terzo Polo. Eliana Esposito è la candidata alla presidenza di Siciliani Liberi, movimento fuori dai poli, impegnato nella raccolta di un sufficiente numero di firme autenticate. Il 25 settembre si voterà non solo per eleggere il Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Tutta l'Italia sarà chiamata al voto per le politiche, per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 101 i contrassegni depositati al Viminale.